Frenny e John sono di nuovo qui che fanno i cretini, sono dei pervertiti. Sei uno spiule di merda, Frenny! Frenny ha detto smeggila! Sfesso di ferma! La prima volta è importante. Perché? Certo, è la prima volta che ti lascia il segno per tutta la vita. Sai, baci così bene che potresti lavorare in tv. Prova a rifarlo. Per me non ci riesci. Guarda che non ti sarà molto facile convincermi. Sei, che è successo? Per me non ti fare un canale. Per me non ti fare un canale. Per me non ti fare un canale. Let's go!